Oh eccoci oggi qui tornati su Clash Royale a farci delle belle partite nel baule del clan Purtroppo siamo un po' in vetro, infatti manca 24 ore circa E siamo ancora a 7 quindi non so se ce la facciamo Vediamo un po' Boom Siamo con Tommy Allora Facciamo così? Ok non deve dare il colpo, oh infatti non l'ha dato Facciamo così? Facciamo splittare gli sgherri? Razzo Che razzo? Faccio splittare gli sgherri Facciamo così? Così Ok E ma? Vuol fare così? Non so se va bene Andiamo Io lancio di tutto, spero di fermare questo attacco loro Vabbè siamo ancora un po' in vantaggio eh C'è da dirlo 800 di vita Quindi ora fermiamo con il boscaiolo Ok Vai Vediamo che fanno Nooo Perché non si è butato di prima? Tu vai col domatore Io se ho qualcosa Di fermo con la scarica Allora Facciamo così? No No ci devo fermare da qui Perché arrivano E mo qua come ci difendiamo? Cavolo loro sono bravi però Ragazzi Ci dobbiamo muovere a vinti Cioè a fare una torre Perché sennò ce la fanno loro Allora Ok Forse li abbiamo fatta Ok Facciamo così Eliminiamo tutto Pianca al boia Grande Vai Difendiamoci Io lancio questo sopra Lo stregone Ora lui lancia il gigante E dai però Non devi lanciare il razzo lì Difenditi Ma perché lancia il razzo? Ma prima difenditi Allora Ora lui lancia il gigante Royal Punto Andiamo Andiamo di cattiveria Io vado da là Ok I due sono andati Anche il principe Dai Prendi Alice Gary Bravo Prendi Alice Bravo Boom Non ci credo In quanto Facciamo così Grande Grande Boom 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 Dai Eh sì Non è finito Ah con il razzo Dici Vediamo Tanto mi serve Che abbiamo vinto Grande Ora il razzo Servito Vabbè comunque Prima incontro vinto Vediamo un po' Vediamo chi sarà E vediamo chi sarà I nostri due studenti di nuovo Vai battaglia Vai Sempre con Tommy Ok Fire game Fire game e fire team Ah sono insieme Sono insieme Loro Possono avere anche un deck troll Quello tipo Eh infatti Ah no Perché ha Allo specchio La rega Vedete qui 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 nella parte qua Chi è che aveva lanciato In un specchio In un specchio O ce l'ha lui Ah è vero Prima si C'ha lo specchio Quello alleato È vero È vendicato Vai Corra Oh sti razzi Oh sti razzi Vabbè Che vuole fare con sti razzi Cioè consumi solo Sei delisirio Cioè vedi ora Come ci difendiamo Sì vabbè È ridono Ma questo lancia il razzo Non si sa come Perché lancia il razzo Sulla torre Ci dobbiamo difendere qua Io faccio così Su difendi Adesso c'è il moschettiere Vediamo La palla di Ma regà Ma io dopo vedo questo qui Di chi arena è Perché madonna Ma che fa Ma chi arena è Questo Ma Allora Dai Lo golem di ghiaccio Madò Eh Ma che vuoi fare con il razzo Che mo mancano 25 di Madò Ora se ce l'hai L'altro razzo Lo potresti pure lanciare Ma sempre se ce l'hai Eh Meno male E vabbè Eh vabbè Niente regà Una partita vinta Una persa Voglio vedere solo che Che arena è Che arena è Tommy 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 Dove? Eccolo Arena 9? Come? Perché lancia Le fireball Controla Vabbè Comunque Spero Che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel like Commentate Condividete Quindi ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi